Il welfare di famiglia è diverso dal welfare aziendale e queste due cose come si possono coniugare? Se vuoi conoscere la risposta puoi partecipare al prossimo laboratorio con Emanuela Meglie, lei è docente ai 14 Family Business Labs. Un ciclo di incontri interamente ed esclusivamente dedicato alle imprese di famiglia. Iscriviti all'intero percorso, acquisirai una metodologia per costruire insieme in famiglia la tua organizzazione di domani.